Risolta la vicenda delle lavoratrici dell'azienda Osas Campo Verde di Castrovilla, Ricchieri mattina le aveva viste nuovamente manifestare davanti ai cancelli dell'azienda. Grazie all'intervento dell'assessore all'agricoltura Gianluca Gallo, la Confia l'è stata ricevuta dall'azienda ed è stato sottoscritto un verbale di accordo tra sindacato e azienda per un'equa distribuzione delle ore di lavoro tra gli operai stagionali della cooperativa agricola nell'arco dell'anno e sino a tutto il 31 dicembre 2020. La delegazione è stata ricevuta dal presidente del gruppo Luigi Nola e dal coordinatore commerciale Vincenzo Marini dove alla fine dell'incontro è stato stilato il verbale in attesa di un tavolo di concertazione previsto per il 21 settembre per programmare la campagna invernale, un dato importante e significativo che non mancherà di migliorare le performance produttive dell'azienda e aumentare il numero delle giornate complessive. La Confia, attraverso il segretario generale Benedetto Diacovo, con al fianco il segretario territoriale Gabriele Iazzolino e la delegata aziendale Rosetta Petrillo, si è dichiarata moderatamente soddisfatta. L'Osas Campoverde ha sottolineato Diacovo, nonostante la crisi del settore, aggravata dalla pandemia, resta una delle eccellenze produttive della Calabria, con una proprietà e un management avveduto e relazionale.